e ragazzi capitolo 8 la cittadella scusa siamo arrivati qui sono arrivati qui ma petta 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 su di qua così vai e controlla siamo col nostro amico direi eterno salli ok sali tutto ok però io ho molta paura dell'inculata sapete molta molta ed eccoci arrivati a sto portone aiutami con la porta non è possibile l'abbiamo lasciata aperta dai aspetta petta petta c'ho la soluzione mi arrampico e do un'occhiata ti dico se è sicuro d'accordo ma da dove mi arrampico that's the point sorry sapevo stava andando tutto troppo bene raga per un pelo di figa stava andando tutto a biga allora qua qua dentro c'è qualcuno che ci aspetta sembrerebbe di no stranamente raga e muori cazzo non avevamo armi perfetto sembrerebbe di no cheat e invece ho sentito un pomper sei te e pensavi eh guarda com'è stupido che pensava che io potessi facessi ma che stupido che sei ma anche te non sei da meno eh perfetta ok un secondo un secondo un secondo dovrebbero essere finiti però sarà utile non dire gatto finchè non è nel sacco tanto questa possiamo aprirla eh perché ha dovuto uccidere qualcuno e dar da solo essendoci questi boh io li tiro lì boh vabbè forza dammi una mano qui è evidente che bisogna farlo in due ma donna c'è un botto d'aria nello stomaco dai di qua dobbiamo sbrigarci eh ma va sali di qua stai indietro ok easy quando si va per di qua oh cazzo naturale è chiuso però dall'altra parte quindi volendo uno fa questo ehi guarda un po' ma un punto dove donna sti visuali quanto le odio punto dove scendere dovrebbe essere questo che urto lo so raga io non mi butterei non mi butterei quindi risalgo perché non lo so però c'è anche una cosa qua che ho notato aspetta 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 ho trovato il meccanismo però non ti sposta lui e palle sparare la carrucola spalle lì no che due oglioni raga che due oglioni ma grossi eh che due palle io boh salto calami giù ah ok 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 ovviamente mica tocca in terra però se faccio così perfetto dammi un secondo adesso vedo ops vieni qui mica gioli è quello uguale magari canta pure meglio come te l'ho messo cos'è stato vabbè ho agito male ma recuperiamo non vi preoccupate andai là ci va tosto il bimbo eh e l'hai lasciata lì invece spiazza e dirtelo ma l'hai lasciata lì godo tesorino un vaso che poi è collezione di tesori ma una volta che l'hai collezionata non è che ti danno un potenziamento o qualcosa no secondo me non servono proprio a un cazzo secondo me è un discorso più estetico che altro poi io ognuno c'ha le sue teorie però portano trofei sti cazzi le trofei poi io la penso così poi magari mi sbaglio eh più che altro qua vorrei sapere dove rampicarmi esattamente qui ovviamente ovviamente ogni cosa è iper presidiata minchia che precisione merda merda ma dai solli dammi una mano grazie favore di cambiato bello bello però lo cutter potrebbe però essere nei guai ma dove saranno quei due sempre detto che la siria è un posto bellissimo il problema è chi c'è dentro neanche quello che c'è dentro chi c'è dentro il problema ma comunque si so che ce l'andare lì e invece no che diavolo perché non siete in Francia siamo qui per salvarvi da cosa vi credevamo prigionieri o peggio sì ma perché Talbot ci ha teso un imbuscato allo chateau era una trappola pensavamo avessero seguito anche voi ma sì in effetti sono qui già non mi dire quindi è meglio non attirare l'attenzione che vi è successo sono 24 ore che proviamo a chiamarvi oh sì devo fare una ricarica usi un telefono prepagato ma i contratti sono una fregatura cosa il mio è rotto di nuovo allora ehi lasciamo perdere indovinate cosa abbiamo scoperto ho tutto qui dentro non solo la rete di spie di Elisabetta si estendeva fino a qui ma erano tutti una specie di società segreta e ermetica l'intelligence britannica dell'occulto la scuola della notte il club del fuoco infernale l'ordine dell'alba dorata sono tutti collegati quindi John Dee e Francis Walsingham John Dee Reen è il trattore chiedo facevano tutti parte ma loro interessava solo il potere il controllo sui nemici con spionaggio inganno paura aspetta aspetta quindi Marlo e i suoi sono lo stesso ordine segreto 400 anni dopo ti prego arrivi al cazzo di dunque sì dobbiamo muoverci subito sì certo ecco guarda ciò che è superiore come è in alto così che cazzo ne so dobbiamo arrivare al punto più alto del castello per questo le scale ben fatto beh scaleziano ma io qua avevo visto una porticina scusate eh mi sbaglio eh si sai che c'è vaffanculo andiamo sulle scale non ho voglia di perdere tempo guarda qui c'è nulla no vediamo un po' l'imboscata che ci tendono quindi dobbiamo solo attraversare oh merda che cazzo state giù ah che c'è ora per arrivare alla torre dobbiamo affrontarli ottimo non dovevamo entrare uscire senza farci beccare che cosa non possiamo mollare ora non quando manca così poco capiremo com'è a girarli aspetta solo che mettano le mani su cutter cos'è sta figata voglio provarla no questo mi sa di fucile potentissimo raga devo provarlo vediamo chi c'è qui ah abbiamo visite ciao e bomba a me qua bellissimo che non urlano cioè io tipo fossi loro urlerei urlerei subito vedo un bagliore fuori dai coglioni prossimo bagliore è lui vieni qua bagliore vieni vieni qua signor torcia merda c'è quello là non mi posso muove adesso volendo sì merda m'han visto ok te lassù ciao mi aspettavo un po' di più da quest'arma qua o sono loro che non muoiono o è l'arma che fa schifo sapete che potrebbe essere un 50 e 50 così muori anche tu non ve le preparate le bombe sennò poi finisce male raga è un consiglio che vi voglio dare spassionato non ve le preparate le bombe lo so io sto cercando qualche munizione tipo questa ha pochi colpi quest'arma o non li sto trovando io o ne ha veramente pochi potrebbe essere un altro di 50 e 50 meglio se ho più a più fatto che non li sto trovando comunque ci sono le scale Charlie dammi una mano ci siete? sì chiaro ciao ok giù i fantastici 4 pistola raffica quanti colpi 55 non male 77 not bad altri colpi no la paranove non la voglio o paranai quello che è sì sì ma noi siamo venuti da qua no? ah ok buona sensazione però sicuramente non siamo soli da bastardo oh 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 no si fa esplodere via vai lancia la bomba forza bravo contento un colpo basato quello aspetta aspetta via via tutta hai idea coglioni brava claw bravo cutter no quello è cutter scusa è cutter pirla vieni qua coglionazzo quanti sono mossa dov'è finito aspetta 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 ops eh questi vanno combattuti raga raga ha perso del metto testate via fucile a canne mozze non mi serve credo sia il momento di andare su perché lì ho visto che è appunto ho visto delle scale e allora buona madonna si vabbè dai è uno scherzo aspetta che adesso ci si dondola guarda come dondolo guarda come dondolo o come cantava Tiger Fregna guarda come sburo guarda come sburo dentro al culo bravo si va prima a far così e muori non mi dire che ci sono pezzi che si staccano punta da quell'arma due ma vabbè quello su si può far fuori aspetta ok non si può mirare con quando si è attaccato la liana non è che posso arrivare su no il punto è un docazzo salto a sinistra a destra secondo me mi conviene saltare a sinistra esatto c'è quel cornicione lì penso che sei l'unico appiglio ragazzi vai a quell'appiglio bravo così dentro allora ok penso che forse al sicuro ci siamo ma li siamo dove prima oh madre oh no fatemi andare via un secondo qui che ci sono delle osse un micarpino allora facciamo le cose come vanno fatte oh no c'è la modalità precisione oh che bello il problema è che è lenta come la merda ok mi pare da quel che ho capito che ce ne sia un altro un altro fantoccio ciao aspetta che uno mica calcolato lui grazie ragazzo ci hai salvato il culo eh come sempre vi salvo il culo ma voi parte clon pochino ma chi è che mi aiuta nessuno di qua ci si è venuti allora e poi andiamo a far qualcosa non vogliamo far niente ok che minchia mica mi ero accorto tutto questo dove si va che me lo sto ancora chiedendo perché in alto non c'è strada mi c'è la luce e qua si la è punto a capo madonna che fastidio buona porta da bastardo è un bestione questo schiaffeggialo lì schiaffeggia insomma ammazzalo boom 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 e finiscilo ma questo c'è ancora forze di picchiare non smoccola neanche un pochino a parte è sei metri e mezzo d'altezza questo e ciao contrasto colossale trofeo bronzo guadagnato wow che basta persone adesso su di qua dai ah aspettavano pure gli stronzi lo combatte da solo ho capito d'aiuto siete grazie mille qua su ehi copriteci d'accordo si ma sbrigatevi ragazzi ok si qua siamo troppo esposti siamo in esposizione ehi qui hai visto come è in alto così è in basso siamo nel posto giusto si si ma il posto giusto per cosa i crociati avrebbero nascosto l'ingresso della cripta in un luogo ben visibile ehi un attimo si guarda lo stesso simbolo è sulla mappa di drake proprio accanto a questo ma certo l'orsa minore e la stella polare l'unico punto fisso della volta celeste quindi se la scommiamo fino al castello scommetto che ci porterà all'ingresso nascosto posso vedere si si ridammelo poi di ardi drake allora si si lo uso se non usi il telescopio ridammelo la trovo io adesso lo uso non devi rompere i coglioni perché questo è il carro all'ingiù ok c'ha senso però quindi dobbiamo trovare la stella polare cosa mi tocca fare raga ok non c'è dubbio che sia questa forse no perché di qua c'è nulla appunto che cazzo sarà raga devo solo trovare la coda dell'orsa minore la stella polare è quella più luminosa all'estremità ma non è quella e che palle oh raga non è quella è appunto 20 anni dovrebbe essere proprio sotto la stella polare dovrebbe essere sotto la stella polare che è questa eccola lì è appunto è proprio nascosta in bella vista ragazzi sì solo un minuto non può essere così semplice vero Nate ci hanno visto forza scampate andiamo ragazzi esprimando ovviamente chi è che corre più lento Nathan che diavolo hanno in testa stanno distruggendo questo posto dimmi che c'è la zipline lì lo piglio io ok in seconda da dove arrivano i razzi uno è là sicuro madonna che liscio l'ho ammazzato no adesso sì fuori uno poi chi è ce ne sono altri due lui fuori chi è l'altro da dove arriva sapete che non lo vedo lui fuori sì è lui c'è un altro ancora chi è ce ne sono altri due invece fuori arriva da quella zona è palesemente lui artista del mirino trofeo guadagnato godo dammi il gmal pronti si parte ok c'è stato allarme su c'è stato allarme certo via forza forza togliamo corri nona che culo stavo cascando eh se tu mi dessi tempo di fare le osie ok mi sono salvato miracolosamente mi sono salvato ok un secondo secondo dove sono ehi ehi qua giù tutto ok più o meno sì facciamo il giro e vi raggiungiamo attenti merda ehi ehi guarda la torre come facciamo con Sally e clou possono cavarsene beh sì praticamente è clou che salva il culo a sally però ok dobbiamo controllare no non mi sembra una buona SNV no ottima cazzo fai ok uno lì è fattibile aspetta buono vorrei conoscere gli altri adesso se è possibile coglione golosissimo 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 ok poi next c'è uno lassù che poi la cosa è anche abbastanza easy ma sono tanti è quello il punto mica altro ok ho capito come far fuori il prossimo insomma sì forse sì chi è là cazzo cazzo devi fare dall'altra parte la cazzo di capriola vabbè ammazzarli li ammazziamo però che due coglioni sempre a fa come cazzo gli pare sto gioco raga sempre a fa come cazzo gli pare doveva rotolare dietro il pilone e invece è andato dove cazzo gli pare a lui come sempre non vedo di giocare al 4 ragazzi davvero eh sì una granata una granata diavolo 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 staccatelo a terra cazzo cazzo ok anti sommossa finalmente è stato fatto fuori molto più complicati anti sommossa uncharted 3 piuttosto che il 4 non muore neanche con la bomba bellissimo così muore però ok sto morendo un attimo cioè non è che sto morendo è la fortuna che sta finendo è è diverso il discorso potevamo farla tutti in tranquillità invece no il gioco ha deciso che mi dovevo tuffare dall'altra parte se devo sbagliare fai che sia io che sbagli no no 9 negative c'è qualcuno che sparda lì mica l'ho visto io ciao vabbè ti sei proprio uh uh aspetta t'ho visto sai e ciao grazie cutter si è piantato ok andiamo ci è rimasto qualcuno speriamo di no andiamo di qua è qua che si accende penso di sì oh no questo è sì oh troppo semplice lo sapete aspetta aspetta un attimo mille anni fa non poteva essere uno scabuzzino no 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 ci sfugge qualcosa aspetta aspetta le statue vedi una mano su una mano giù già visto in alto in basso sempre lo stesso concetto ripetuto in pratica solo un'altra bricciola sul sentiero beh sembrerebbe di sì fammi guardare ancora sì certo grazie eh ehi è di nuovo quel simbolo già forse stavolta non è in alto ma è in basso chissà deve essere una parte del castello stesso una specie di emblema un simbolo stelle ne vedo quindi potrebbe essere già qualcosa aspetta aspetta sì eccolo come in basso così e in alto già ok ora guarda col cannocchiale cosa vedi eh sì vedo quello a parte non me l'ho fatti là fuori che stai facendo è qua su siamo sicuri sì per forza vabbè l'ho rischiata cosa c'è là sopra che due coglioni raga ma te cutter sei sicuro che sia qua sopra il prossimo indizio dovrà essere subito sopra eh l'ho capito fra però se non mi fa usare il telescopio forse può che ne so già eh punto l'ho viste solo che non me le faceva inquadrare sono là merda ci hanno visti e ci risiamo aspetta facciamo una cosa molto saggia merda quello da dove arriva ehi è Sully cazzo ali aspetta si per lanciare la bomba di aspettanzi hondo eh bello Sully col sì 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 vabbè con lancia razzi manco l'ho ferito manco l'ho ferito dal bastardo là dal bastardo laggiù l'ho visto l'ho visto sai aspetta ricolorati un secondo merda non è possibile che non sia minimamente chillabile e ciao a te vieni cutter dammi una cazzo di mano e ciao oh sì posso adesso grazie a quel bastardo là va tenuto sott'occhio aspetta un secondo che te mi fa una brutta fine prima bravo chiunque tu sia stato ok ho bisogno di munizioni se no ovviamente andiamo da poche parti affanculo troppo tardi e muori dobbiamo andare a prendere io o ce la fai da te bello salli sì vabbè c'è qualcuno che mi sta sparando da dietro e vaffanculo t'ho visto oh 20 colpi per sta merda qua finalmente posso scendere in strada ma è un rischio che corro è un grosso rischio che corro ma me lo prendo tutto ciao ringrazia mia sali fai qualcosa grande da quella torre arriveremo ai pilastri basta autore di palle adesso si è calmata la musica quindi forse si respira forza riuniamoci agli altri voi due state bene? già siamo ancora tutti interi venite abbiamo scoperto qualcosa felice che stiate bene altrettanto ok mo ecco la parete l'ingresso della cripta dovrebbe essere qui vicino beh e Lawrence dice niente? no niente qui è dove si è fermato e quante speranze abbiamo? la porta d'ingresso è contrassegnata da due pilastri sì ma quali due? e un ingresso a cosa? beh a un altro reame luogo sacro luogo d'iniziazione sembra proprio uno spasso no non si aprono fra forse questa? magari è dietro l'angolo forse è questa? cutter che c'è? no dammi la forza ora no ora è il diario lo converte? grazie non fidarti di Drake dov'è Charlie? chi lo sa? no 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 merda sparito come diavolo Charlie tutto bene? Charlie? che ciletti guardate che razza di diavoleria da agenti segreti è questa? speriamo che la dose non sia pesante no 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 merda calma guardami Charlie sono qui dobbiamo andarci non toccarmi stop eh sapevo nessuno ti tocca Charlie che cazzo c'era in quel dardo? le facce si sciolgono qualunque cosa fosse sballato forte Charlie senti è tutto ok? lascia via non mi portate via ehi nessuno vuole portarti via ehi seguici e basta ok? già oh no il pavimento si squaglia no no anfetamina e come? non ci resta che trovare l'ingresso della critta perfetto qualche idea Charlie aveva pensato qualcosa ma non so cosa la bacchetta del mago maledizio senza il suo diario non lo scopriremo mai lasciatemi pensare ok ermetico dal greco Hermes che è pilastro? fin lì c'era i sette pilastri della saggezza tra misericordia e severità fermi aspettate siamo fuori strada non è lo spazio tra due pilastri è il pilastro centrale equilibrio cosa? che avrebbe senso il pilastro dell'equilibrio posto tra i due estremi in mezzo tra bianco e nero acqua e fuoco femmina e maschio la via di mezzo la via di mezzo quindi va spinto il bottone come sempre eccolo Sally aiutami a spingerlo vabbè cutter per meno è ridotto a un a un vegetale ormai ok forza no 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 tutto ok Charlie coraggio dai non vorrei che poi si rivoltasse contro nel peggiore dei momenti sapete? ecco qua di qua di qua capitolo 9 la via di mezzo ok voi due andate avanti io aiuto Charlie d'accordo ciao ciao Grazie a tutti.